Siamo contenti, non si era messa subito male la partita, ma abbiamo avuto una grande reazione e penso che ci sia stato un spirito giusto combattente da parte di tutti e quindi ci siamo meritati per questa vittoria e anche in prospettiva di mercoledì. A chi dedichi questo gol? Sicuramente mamma e papà e tutti i miei amici erano venuti a vedermi, quindi è una doppia soddisfazione. Con la Virtus Verona con che spirito? Sicuramente con quello che abbiamo avuto per riprendere la partita. Sicuramente all'inizio non è stato dei migliori e questo lo analizzeremo domani. Lo spirito con la quale abbiamo messo quella grinta, quella forza, quella tenacia per recuperare la partita. Un attacco che si trova sempre meglio, tu hai Candelloni in gol, Zuria sempre protagonista. Che sensazioni ci sono dal campo? Ci sono delle sensazioni positive che sicuramente il lavoro paga, il lavoro ben fatto paga e più giochiamo più cresce l'intesa, quindi più affamati che mai. Hai recuperato l'infortunio, due partite titolare, come stai? Sì, non completamente al 100%, però è chiaro che ora che l'infortunio alle spalle ho la possibilità di lavorare sul campo e con la squadra e condizione migliore arriverà.